Sul tema del lavoro con un post sul suo blog intanto è intervenuto oggi anche Beppe Grillo che dice Landini dunque sembra svegliarsi di fronte all'attentato all'articolo 18, scrive il leader dei 5 Stelle ma l'attentato al mondo del lavoro, alla produttività delle aziende, ai rapporti, a tempo indeterminato, alla sicurezza del posto di lavoro, alla tenuta del potere d'acquisto dei salari è già avvenuto da tempo o semplicemente con l'introduzione dell'euro, così Beppe Grillo sul suo blog.